Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi svolgeremo una scheda d'esame, risponderemo a 30 domande in massimo 20 minuti di tempo. Mi raccomando, scrivete nei commenti tutti i vostri dubbi, tutte le vostre perplessità. Adesso, se però ancora non l'avete fatto, cliccate mi piace al video e seguite il mio canale, così potrò continuare a pubblicare i miei contenuti. Ora allacciamoci la cintura perché iniziamo! Quiz numero 1. Nelle aree pedonali i ciclomotori possono transitare solo di giorno. La risposta corretta è falso. Nelle aree pedonali i ciclomotori, cioè gli scooter dei ragazzini di 14 anni, non ci possono entrare. Quiz numero 2. Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di tornanti se integrato con apposito pannello. La risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato indica il pericolo di una doppia curva la prima a sinistra. Se sotto è il pannello integrativo col numero dei tornanti, mi raccomando, vuol dire che vi indicheranno quante curve ci sono. Quiz numero 3. Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli trainati da cavalli. La risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato indica proprio questo. Divieto di transito ai veicoli trainati da cavalli. Quiz numero 4. Il segnale raffigurato consente di circolare entro i limiti massimi di velocità vigenti per quella strada. La risposta corretta è vero. Il segnale raffigurato indica la fine del limite minimo di velocità. Quindi prima si doveva andare ad una velocità di almeno 30 km orari. Fino a quanto posso arrivare dipende dalla strada in cui sono. Quiz numero 5. Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con una strada senza diritto di precedenza. La risposta corretta è vero. Questo segnale è un segnale di precedenza. Ci avvisa che noi siamo sulla strada principale, quella che è il diritto di precedenza. Da sinistra arriva un'altra strada che non avrà il diritto di precedenza. Quiz numero 6. La striscia trasversale continua in figura indica il punto dove occorre arrestarsi. La risposta corretta è vero. Controllate bene, c'è scritto anche stop, quindi ci dobbiamo fermare. Quiz numero 7. Chi guida autoveicoli deve esibire a richiesta degli agenti il segnale mobile di pericolo, cioè il triangolo. La risposta corretta è vero. Se l'agente vi ferma e vi chiede di mostrare il segnale mobile di pericolo, lo dovete fare. Quiz numero 8. Il segnale raffigurato si trova in vicinanza di un ponte che attraversa il fiume Arno. La risposta corretta è vero. Questo segnale si trova proprio in vicinanza del ponte che attraversa il fiume, in questo caso il fiume Arno. Quiz numero 9. Il segnale raffigurato obbliga gli autocarri a svoltare a destra. La risposta corretta è falso. Attenzione! Il segnale raffigurato è giallo, quindi vuol dire che si trova in presenza di lavori stradali. Sotto c'è disegnato l'autocarro e quindi indica a tutti gli autocarri superiori a 3,5 tonnellate il consiglio di girare nel senso della freccia. Quindi non è un obbligo, è un consiglio. Se era un obbligo, la freccia nera era circondata dal cerchio blu. Quiz numero 10. Il pannello raffigurato A indica l'obbligo di proseguire diritto. La risposta corretta è assolutamente falso. Il pannello integrativo in figura si trova sotto i segnali di prescrizione, pericolo o indicazione e indica l'inizio di quei segnali. Quiz numero 11. Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 90 km orari per i motocicli. La risposta corretta è ovviamente falso. Il motociclo sulle autostrade può raggiungere la velocità massima di 130 km orari. Quiz numero 12. In un secondo si percorrono circa metri 4 se si viaggia a 50 km orari. La risposta corretta è falso. Come si fa a calcolare? Si prende la velocità, 50 km orari, si divide per 10 e fa 5 e si moltiplica per 3. Fa circa 15. Perciò troppo lontano da 4. Non va bene. Falso. Quiz numero 13. Giungendo in vicinanza di un incrocio si deve segnalare per tempo l'intenzione di svoltare. La risposta corretta è ovviamente vero. Prima di girare dovrò segnalarlo. Quiz numero 14. Giungendo all'incrocio rappresentato in figura, il veicolo D deve dare la precedenza al veicolo P. Ora, nell'incrocio ci sono 4 veicoli. Il primo a passare per chi ha la destra libera è il veicolo P, quello rosso. Dopo passerà il veicolo giallo, cioè D, poi B e poi L. Perciò la risposta corretta è vero. Quiz numero 15. È vietato il sorpasso se nevica? La risposta corretta è falso. Si può superare anche con la neve, ma bisogna fare molta, molta attenzione. Quiz numero 16. Fuori dei centri abitati, la sosta è vietata in corrispondenza delle aree di intersezione, ma non in loro prossimità. La risposta corretta è falso. Nell'incrocio e nelle immediate vicinanze dell'incrocio non si può fare la sosta, non si può parcheggiare. Quiz numero 17. Il pannello in figura segnala carichi indivisibili che sporgono dalla parte posteriore del veicolo. La risposta corretta è vero. Questo pannello è utilizzato quando il carico sporge nella parte posteriore, quindi dietro, dal nostro veicolo. Lo mettiamo perché? Perché così rendiamo visibile il carico che sporge. Quiz numero 18. L'uso degli indicatori di direzione è necessario ogni qualvolta si deve fare una manovra di svolta. La risposta corretta è vero. Tutte le volte che devo girare a destra o girare a sinistra, metterò il relativo indicatore di direzione. Facciamo un esempio. Voglio girare a destra, metto la freccia a destra. Voglio girare a sinistra, metterò la freccia a sinistra. Quiz numero 19. I guanti da motociclisti proteggono il palmo della mano in caso di caduta con strisciamento sull'asfalto. La risposta corretta è vero. Il guanto da motociclista protegge la mano, sia il palmo che il dorso. Ricordatevelo bene. Quiz numero 20. La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare circola su un veicolo che non è di sua proprietà e non ha un'autorizzazione scritta dal proprietario. La risposta corretta è falso. Facciamo un esempio. Se prendo la macchina a mio fratello o mia sorella, non è che mi fermano e mi fanno fare la revisione. Posso circolare lo stesso. Quiz numero 21. I tamponamenti stradali avvengono principalmente per la disattenzione dei conducenti. La risposta corretta è vero. Purtroppo chi guida non è molto concentrato e allora avvengono gli incidenti. Ricordatevi di rimanere sempre concentrati. Quiz numero 22. Durante la guida si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto se nella patente si trova indicato tale obbligo. La risposta corretta è assolutamente vero. Nella patente c'è scritto se dovete mettere gli occhiali o le lenti. Questo può essere scritto per esteso, obbligo di lenti o di occhiali, oppure attraverso un codice armonizzato che si chiama codice armonizzato 01. Quiz numero 23. Dopo la firma del contratto di assicurazione RCA, cioè responsabilità civile auto, l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente il certificato di assicurazione. La risposta corretta è vero. Dobbiamo avere qualcosa che dimostra che abbiamo fatto l'assicurazione. Quiz numero 24. Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna controllare spesso la frizione e il differenziale. La risposta corretta è falso. Non c'entra nulla nella frizione, nel differenziale. Al massimo controlleremo gli iniettori o la pompa di iniezione, oppure il filtro dell'aria. Ricordatevelo bene. Quiz numero 25. Il freno di stazionamento non deve essere utilizzato per la frenatura di servizio. La risposta corretta è vero. Ora, che cos'è il freno di servizio e il freno di stazionamento? Il freno di stazionamento è quello che noi chiamiamo freno a mano. E per frenare normalmente, non devo frenare col freno a mano, ricordatevelo. Devo schiacciare il pedale. Il pedale come si chiama? Freno di servizio. Quiz numero 26. Il segnale raffigurato su strade extraurbane è preceduto dal segnale preavviso di dare la precedenza. La risposta corretta è assolutamente vero. Se siamo su una strada extraurbana, fuori dal paese, e il limite di velocità è molto più alto, facciamo un esempio, 90 km orari, se troveremo un incrocio in cui dobbiamo dare la precedenza, dobbiamo essere avvertiti prima. Ma se no facciamo fatica a rallentare e all'occorrenza fermarci. E allora metteranno il preavviso. Metteranno un altro segnale con scritto la distanza a cui troveremo l'incrocio col dare la precedenza. Quiz numero 27. Lo spazio di frenatura si quadruplica se la velocità si raddoppia. La risposta corretta è vero. Difficilissimo! Andate a vedere il video in cui parlo della distanza di sicurezza. Se la velocità raddoppia, lo spazio di frenatura diventa 4 volte. Se la velocità triplica, lo spazio di frenatura diventa 9 volte. Se la velocità quadruplica, lo spazio di frenatura diventa 16 volte. Ricordatevelo. Quiz numero 28. Gli specchi retrovisori devono essere utilizzati per un controllo della strada dietro al veicolo. Ogni volta che ha un incrocio, si intende proseguire diritto. La risposta corretta è... Falso! Se andiamo diritto, non è necessario controllare gli specchietti retrovisori. Quiz numero 29. Quando stanno per riprendere la marcia, Dopo un arresto al semaforo, i conducenti di autocarri possono facilmente avvistare pedoni o ciclisti che affiancano e sfiorano la parte anteriore dei propri veicoli. Ora, la risposta corretta è... Falso! Cos'è l'autocarro? È quello che noi purtroppo chiamiamo col nome di camion. Chi guida il camion è molto in alto. E questo non è un bene. Fa molta fatica se guida in centro abitato, perché non riesce a vedere le cose che gli stanno vicino. Quindi, mi raccomando, chi guida l'autocarro o gli altri che si avvicinano ad un autocarro devono stare molto attenti, perché chi lo guida non riesce a vedere vicino al proprio veicolo. Quiz numero 30. Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche non può recuperare velocemente l'idoneità alla guida, specie se assunto dei farmaci. La risposta corretta è... Vero! Chi beve alcol e ne beve tanto non deve guidare, perché impiegherà molto tempo a riprendere una forma fisica ottimale. Mi raccomando, eh! Se poi fate uso anche di farmaci, questa cosa aumenta ancora di più. impiegherete molto più tempo a recuperare l'idoneità alla guida. Ok ragazzi, il video è terminato! Spero vi sia piaciuto! Se è così, cliccate mi piace al video e seguite il mio canale. Noi ci vediamo la prossima volta! Ciao a tutti!